Musica Saravia Francigena, Toscana. Ecco il primo prodotto turistico omogeneo che si appresta a nascere dopo l'entrata in vigore della legge sul turismo della regione Toscana. Per fare il punto sullo stato d'arte dei percorsi, manutenzione, valorizzazione turistica e ricettività dell'antica via si è tenuta nell'auditorium del Consiglio regionale a Firenze la tappa conclusiva del ciclo di incontri dal titolo La nostra Francigena. La Francigena ancora una volta è un cammino, un percorso, questa è una tappa, una tappa importante. Riusciamo a mettere a fuoco il lavoro fatto e con importanti innovazioni. Prima di tutto il coinvolgimento vero dei territori, degli enti locali, l'aver definito con i quattro ambiti e con i comuni di riferimento l'assunzione di responsabilità che i territori oggi testimoniano con la sottoscrizione di accordi specifici con Toscana Promozione e con Fondazione Sistema Toscana. Si costruisce un modello e si incomincia a utilizzarlo per declinare questo rapporto stretto con la via Francigena, con l'ospitalità, con la manutenzione, con i tanti aspetti che sono collegati a questa idea straordinaria che vede la Toscana protagonista, prima fra le regioni ma insieme in un percorso complessivo di valorizzazione della nostra storia, del nostro paesaggio, del turismo lento che così oggi caratterizza la nostra promozione e la nostra offerta. L'iniziativa organizzata da Regione Toscana insieme al consigliare delegato alla Francigena, Francesco Gazzetti, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con l'Associazione Europea Via Francigena, ha preso il via lo scorso novembre con cinque tappe, Fucecchio, Pontremoli, Siena, Lucca e Firenze, un modo per coinvolgere tutti gli attori interessati, comuni, associazioni, proloco e privati verso la strutturazione del prodotto turistico omogeneo. Chi ha seguito sin dall'inizio questo percorso ha visto che la priorità era assolutamente quella, ovvero condividere insieme ai territori, alle realtà delle imprese, dell'associazionismo, di tutto quello che ruota attorno alla Francigena, condividere con tutti questi mondi le priorità e soprattutto gli obiettivi. Devo dire che una sala così piena capita forse raramente di vederla e questo vuol dire che il lavoro fatto dagli uffici, dall'assessorato, da tutti quelli che hanno lavorato per arrivare a questo obiettivo è stato un ottimo lavoro che ci responsabilizza per il futuro. Anche il Ministero dei Beni Culturali ha organizzato varie sessioni di incontri tra le varie regioni interessate proprio per arrivare ad un prodotto turistico omogeneo. Si è cercato di identificare sostanzialmente quelli che potessero essere i progetti principali da portare avanti. La finalità in realtà è una e ben definita, quella di realizzare un percorso unitario il più possibile, quindi dare uno standard anche dal punto di vista della percorrenza e dei servizi che possa essere omogeneo e quindi si è cercato di rilevare innanzitutto le priorità. Attualmente siamo in grado di poter stipulare quello che è l'accordo operativo che è funzionale proprio all'avvio della parte operativa in senso proprio. La Via Francigeno è un percorso fatto di territori unici e che sempre più turisti, non solo pellegrini, decidono di esplorare e gli incontri organizzati dalla Regione Toscana sono stati un modo per discutere delle opportunità e delle criticità per quanto riguarda l'accoglienza, la promozione turistica, la manutenzione lungo il tracciato della Via Francigena. Dovremmo fare ancora degli altri atti, dovremmo ridefinire dei piccoli dettagli nei percorsi, dovremmo portare in fondo il lavoro che nella Francigena vede, oltre che la via più fortemente caratterizzata dei cammini, anche il percorso bike e con qualche difficoltà ulteriore anche l'ippovia. Valorizzare ulteriormente e implementare l'ospitalità sul tracciato, sia quella sostenuta dai soggetti pubblici e dai privati, sia declinare meglio il lavoro che è stato fatto dalla Conferenza delle Regioni con la CEI, con la Conferenza Episcopale Italiana. Anche questo è un tema dell'ospitalità diffusa lungo il cammino, curata da enti religiosi in varia forma, in varia tipologia, da portare sui territori. E quindi dalla CEI passiamo alla CETTA, la Commissione Episcopale Toscana, e con loro affronteremo ulteriori passaggi. Ma a che punto siamo per quanto riguarda i lavori sulla via Francigena e Toscana? Per quanto riguarda il percorso escursionistico, a breve verrà approvato il tracciato definitivo. Anche quello cicloturistico è stato individuato ed è in corso una verifica prima dell'approvazione. Per la cartellonistica e messa in sicurezza, la Regione ha recentemente messo a disposizione 315.000 euro. Va avanti anche il lavoro per l'ippovia. Per quanto riguarda le operazioni di manutenzione ordinare, la Regione ha messo a disposizione 360.000 euro. Oggi la struttura della via Francigena è a posto, è stata organizzata il sistema della manutenzione del percorso, è stato organizzato un sistema di confronto fra pubblico e privato, è stato organizzato un rapporto con le amministrazioni locali costruttivo e fattivo. dove sono state individuate anche le risorse economiche per mantenere la via Francigena in buono stato di conservazione. Quindi a questo punto ci sono tutte le condizioni. Andremo a breve a definire quelle che sono, chiamiamole gli standard per gli operatori privati, per poter essere soggetti attivi all'interno della via Francigena. e quindi pubblico e privato a questi punti possano sviluppare le loro attività future di animazione e promozione della via Francigena. In questo con l'aiuto di Toscana Promozione Turistica e di fondazione del sistema Toscana, che sono i bracci operativi che su questo piano stanno già lavorando. Il prodotto turistico omogeneo via Francigena Toscana aggrega 39 comuni, con 4 comuni capofila. Nord con Pontremoli, centro-nordo con Lucca, centro-sud Fucecchio, sud Siena. Tutti i comuni hanno sottoscritto una convenzione con Toscana Promozione Turistica e fondazione Sistema Toscana, con lo scopo di consentire la promozione e la comunicazione del prodotto turistico francigena attraverso il web, ma non solo. L'ultimo prodotto di comunicazione, ad esempio, è un blog tour che si è svolto non più tardi di un mese e mezzo fa in 5 giorni da Pontremoli a Radicofoni, raccontato attraverso la presenza di videomaker, blogger che sono arrivati da ogni parte del mondo e ci ripromettiamo di rinnovare con altri blog tour a piedi, in bici, a cavallo e trasferire queste testimonianze nel sito rinnovando anche un altro elemento di comunicazione molto importante e di interazione che è rappresentato da Toscana ovunque bella, che ha visto raccontare, il racconto dei racconti, tutti i comuni in una redazione diffusa da scrittori famosi a scrittori a nuove promesse di una scrittura creativa legata al territorio. Pensiamo che il secondo anno di Toscana ovunque bella potrebbe avere per tema la francigena, ad esempio. quante evocazioni, quante testimonianze, racconti, storie inedite o conosciute si snodono attraverso queste centinaia di chilometri che rappresentano un patrimonio strettamente legato alla nostra identità. Ma la via francigena è soprattutto ospitalità. L'obiettivo principale della regione è la creazione di una rete degli ostelli. Attualmente gli ostelli finanziati con i fondi PARFAS 2007-2013 sono 15, per un totale di 487 posti letto. Nel convegno si è parlato anche della via francigena candidata a patrimonio UNESCO, atto fortemente voluto dalla regione toscana. Siamo a buon punto perché l'analisi preliminare su cui ci siamo impegnati con le altre sei regioni italiane attraversate dalla via francigena e in fase conclusiva abbiamo lavorato con un gruppo di lavoro composto da referenti delle regioni e integrato anche con una significativa presenza del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo. Quindi siamo nella fase conclusiva di questo studio e abbiamo avviato una serie di confronti preliminari alla iscrizione nella tentative list che apre il percorso di preparazione del dossier di candidatura diciamo così formale per l'iscrizione nel lavoro dei leader di list. Anche perché in cammino lungo il tratto toscano della via francigena si possono scoprire luoghi ricchi di fascino che lasciano chiunque lo attraversi a bocca aperta. Un patrimonio fatto di paesaggi, storia, arte senza uguali. Una strada che nei secoli ha unito popoli, arte e fede che continua anche oggi a raccontare storie indimenticabili. La Toscana è convinta che questo spazio sia oltre che come viene detto bene un elemento di valorizzazione delle identità locali, della storia, valorizzazione di percorsi anche di conoscenza nuova di edifici monumentali che sono disseminati lungo questo percorso millenario e che lì si sono consolidati e sono quasi spariti dall'immaginario collettivo. Questi vanno riscoperti e vanno messi in un ragionamento più strutturato perché il turismo oggi non è solo questo, è anche consapevolezza, è il recupero di un'appartenenza, è narrazione. Ecco, il turismo che immaginiamo è questo, distribuito sui territori che decongestioni le grandi città d'arte sotto pressione, che racconti e dia opportunità ai territori, all'altra Toscana, quella più minuta, a volte più fragile, ma che può preziosamente raccontare tanto della sua storia. Grazie.